Parliamo di pallavolo e dell'Azimut che ancora deve digerire la sconfitta in semifinale di Coppa Italia ma che ha già raggiunto la Romania dove domani giocherà in Champions League contro i campioni di Romania appunto del Craiova. L'obiettivo è portare a caso una vittoria da tre punti per chiudere anticipatamente il discorso qualificazione. Da dove ripartono i gialloblu lo spiega il tecnico Roberto Piazza al microfono del nostro Fabrizio Monari che è proprio a Craiova per noi. Roberto Piazza la partita contro Craiova è molto importante soprattutto perché può chiudere il girone per Modena con la posizione che si voleva ottenere all'inizio, la prima. Sicuramente è molto importante, dobbiamo aspettare per doverlo chiudere o no del vero la partita di ritorno di Bejciatov che giocherà mercoledì. È molto importante intanto mettere un piede avanti, guardare comunque alle prossime partite e questa è la prima dopo la Coppa Italia per cui è una partita molto molto importante per ritrovare sia lo spirito che il gioco di Azimut Modena. Le scorie sono semplicemente quelle che ci sono rimaste nella testa da una semifinale che poteva finire in altro modo, gara molto complicata, complessa, secondo me è una partita bellissima però persa. E quindi quelle sono le scorie che dobbiamo eliminare, per il resto Max non c'è, non c'era neanche a Bologna e di conseguenza la squadra è la stessa, la medesima. L'andata è stata una partita non semplice, paio di settimane fa complicata soprattutto nei primi due set, bisogna stare attenti a questo avversario. L'andata è stata una partita cominciata male e finita molto bene, vediamo di iniziare dalla fine. Dalla pallavolo al calcio.